Costruire un'opportunità di futuro per soggetti fragili che per motivi diversi si trovano ai margini della società ma sono pronti a reintegrarsi. È l'obiettivo del progetto di formazione professionale addetto alla lavorazione lattiero-casearia, presentato questa mattina presso l'azienda strumentale Improsta di Eboli che ospiterà la parte pratica. Il corso prevede infatti prima la formazione teorica con 350 ore e poi la pratica nel laboratorio caseario dove attualmente sono al lavoro gli operatori del consorzio di tutela della mozzarella di bufala Campana Doc. Tra le persone che seguiranno il nuovo corso di formazione c'è una ragazza madre, persone con problemi di disagio psichico ed anche un ex detenuto che ha scontato la sua pena nel gruppo fragile individuato da Rete Solidale per il corso di formazione. Alla conferenza ha preso parte questa mattina il parlamentare del PD Piero De Luca, il presidente dell'azienda Improsta di proprietà della regione Campania, Luca Sgroia ed Antonello Di Cerbo che con la fondazione Casa Amica e Rete Solidale ha realizzato l'iniziativa che si inserisce in un percorso tracciato da tempo alla ricerca di nuove opportunità di integrazione per soggetti deboli ai margini della società. Uno su tutti il progetto che ha portato alla nascita di una pizzeria all'interno della casa circondariale di Forni, gestita dai detenuti. Per quanto riguarda il progetto di formazione addetto alla lavorazione lattiero casearia, coloro che seguiranno il corso avranno anche diritto ad un piccolo rimborso spese. Sono persone fragili che vengono da esperienze di sofferenza, di disagio, persone che hanno fatto percorsi di detenzione, percorsi all'interno dei centri di salute mentale. Un'attenzione particolare a questo mondo perché spesso siamo bravissimi a parlare, a fare corsi straordinari, ma poi alla fine nel concreto il pezzo che manca è l'inserimento lavorativo. Noi pensiamo, dato che la mozzarella è l'oro del sud insieme al pomodoro, pensiamo che qui c'è la possibilità concreta di formare e inserire al lavoro persone svantaggiate. Credo che sia questo il tema centrale perché, devo dire la verità, qui all'azienda Improssa abbiamo ospitato, stiamo ospitando altri corsi di formazione per casari, ma questa ha una peculiarità ed è anche la ragione per cui quando mi è stata proposta da Antonello Di Cerbo questa idea, vi abbiamo immediatamente adedito. Perché oltre a creare operatori che siano da questo punto di vista altamente qualificati nel settore lattero caseare, si dà un'opportunità da questo punto di vista a soggetti, permettetemi di definirli così, svantaggiati, in maniera tale da consentirgli il pieno reinserimento sociale. Direi anche una cosa, io in passato in altri ruoli istituzionali mi sono occupato di politiche sociali, quindi ho una certa sensibilità rispetto a queste tematiche. Ricordo che imparai all'epoca una lezione importante, un momento del bisogno di una persona rispetto a che dire, a comprargli del pesce per alimentarlo, è preferibile comprargli una canna da pesca ed insegnargli a pescare. Credo che questa sia la differenza tra il welfare e l'assistenzialismo ed è quello che stiamo cercando di fare qui con questo progetto. C'è un progetto insieme e in collaborazione alla Fondazione Casa Amica che comunque il nostro obiettivo è l'inserimento lavorativo e formativo di persone con disabilità, persone ex detenuti e con handicap vari. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo dell'inserimento sociolavorativo con questo corso che ci accingiamo a fare e che prevede 500 ore di formazione, tra cui 350 in teoria e 150 pratiche che si formeranno qui in questa tenuta di agricola sperimentale regionale che il dottor Sgroia ci ha messo a disposizione e che comunque noi ringraziamo infinitamente per la collaborazione.